Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi farò la recensione di un oggetto non proprio inerente alla fotografia e al videomaking, però spesso e volentieri mi chiedete che torcia utilizzo durante le mie escursioni fotografiche. Benissimo, eccola qua. Io utilizzo questa torcia della Wotak. La cosa figa di questa torcia da testa è che può essere utilizzata anche come torcia a mano. Basta sfilarla ed ecco qua. Questa torcia sfrutta un singolo led che ha una durata della vita dichiarata di 20 anni. Il peso della torcia senza batteria è di 108 grammi e l'intensità luminosa va da 0,3 lumens fino a 1050 e la distanza massima raggiunta dal fascio di luce, almeno stando secondo l'azienda, è di 128 metri. Resiste all'immersione fino a un metro e in teoria a cadute da un metro e mezzo, però non ho mai provato. Per accenderla e spegnerla basta schiacciare una volta sul tasto presente qui sopra. Questa torcia ha diverse modalità di funzionamento, vediamole un po' rapidamente. Se teniamo schiacciato il pulsante con la torcia spenta si attiva, si vede, penso di sì, la modalità Firefly, la modalità lucciola. Se invece con la torcia accesa teniamo schiacciato il pulsante qua sopra passiamo attraverso la modalità bassa, media e alta. Se invece facciamo doppio clic sul pulsante con la torcia sia spenta che accesa si attiva la modalità turbo che vi assicuro di notte fa una luce veramente esagerata. Se invece facciamo di nuovo doppio clic si attiva la modalità SOS. Tre brevi, tre lunghi e tre brevi. La torcia inoltre ha una funzione di memoria, nel senso che se la lasciamo accesa nella modalità bassa, se la riaccendiamo si riaccenderà, mi sono accettato nella modalità bassa. Questa funzione è disponibile in tutte le modalità tranne la modalità Firefly, quindi lucciola, turbo, SOS. Quando poi la luce inizia a lampeggiare da sola è il segnale che la batteria va ricaricata. La torcia funziona con batterie ricaricabili da 3,6 volt, questa in particolare da 3400 mAh. La cosa figa di queste batterie che ho comprato è che hanno una mini porta USB e quindi la ricarica è veramente semplice e poco ingombrante. Direi che è una porta micro USB. La durata della batteria poi naturalmente varia dalla modalità che utilizziamo. La modalità turbo, la più luminosa diciamo, in teoria dovrebbe durare con questa batteria 2,7 ore. La modalità alta 4 ore e mezza, la modalità media più o meno 15 ore. La modalità bassa 4 giorni e la modalità Firefly, lucciola, 60 giorni. Che dire di questa torcia? Mi accompagna ormai nei miei trekking da direi 3 anni e mi sono sempre trovato benissimo, per cui mi sento assolutamente di consigliarvela se siete in dubbio su quale torcia acquistare per le vostre escursioni. Ragazzi, come al solito, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!